Ok rieccomi, allora guardiamo un pochettino quanti ci servono per fare uno stack da 64 Sono stupido, si lo so sono stupido Non lo dirò mai troppe volte Allora facciamo così e prendiamo uno stack Perché sono stupido non lo so Vabbè facciamoci un po' di torce Eccole qua le torce finalmente Che così appunto abbiamo una scorta in più di torce Con le torce volevo fare sempre se c'è No Dimmi che c'è 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 Candeliere, jack-o-lantern, questo qui non so cosa sia Non c'è ragazzi non c'è Ragazzi non c'è Non c'è Vabbè Poi ragazzi aggiungerò un po' di mod qua dentro Perché sinceramente di stare con così poche mod Non ce la faccio Cioè io devo avere una scelta molto 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 E potrei continuare per un bel po' ampia di scelta Quindi Vabbè Allora vediamo un pochettino Com'è vediamo non lo so La mettiamo qua Bella Bella Mi fa schifo ma ok No non mi piace Dov'è il chisel Il chisel Oggi non stiamo facendo Ah il timer Ok Google Imposta timer a 3 minuti Sì oramai direi di sì Sta per essere impostato il timer Grazie Ok Anche se oramai tipo 10 minuti sono passati Credo Spero di no Sinceramente Però vabbè E un pochettino Se togliamo questo qui Ho l'accetta Sì Ah No ve l'avevo fatto vedere nello scorso episodio Vero Perché non mi ricordavo se vi avevo fatto vedere che ho trovato tutti gli strumenti di maniulium Cioè gli strumenti Le componenti degli strumenti Fantastica Mi piace questo Il maniulium Non so come si pronunci quindi maniulium Ok Maniulium Ma 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 Quello E ragazzi è una bellissima cosa Perché Con il maniulium Posso fare Tutto E però in questo pack in realtà non mi serve Quindi Cioè nel senso Se Steste pensando che me lo sia crevato Pensate male Perché io tanto non ci farei niente Con il Con i piccoli di maniulium Ehm Serred bricks Perché l'avevo messo qua dentro Boh I serred bricks come si fanno No No ho detto Con la growth I am growth Ok La growth come si fa Ok Con Ok non ora Non ora Non in questo momento Ho un po' di carbone Fa vedere Fa vedere Oggi non ho fatto niente in questo episodio Fantastico Mi piacciono questi episodi Dove si conclude molto Non c'è il carbone Siamo sicuri Com'è possibile che non c'è il carbone Come è Possibile It's not possible this thing Sir Ok andiamo a vedere tipo qua Non mi ha preso niente Perché sarà finita l'energia La Non capisco I don't understand I don't understand Questa qui brucia Cioè se tipo io faccio così Brucia Si brucia Non capisco 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 Eh Questo episodio è Eh È di un cittoso Non so perché ma Boh Mi sento Mi sento in vena di cittare Tipo Questi Ma dove sono venuti Questi io Non li ho mai visti Questi Call Io che Call Io Call Oh guarda Ce ne ho 64 Fantastico Non so dove li abbia trovati Però ce li ho Oh Bello Allora li mettiamo anche un po' qua Ma si Facciamo 11 qua Ma si li mettiamo anche nella Cioè 60 Non ne ho Quindi va bene Ok È suonato il coso Però io sinceramente Non ho fatto niente Quindi Continuerei Anche se sto tipo Facendo cose Che voi umani Non avete Idea No non è vero Però vabbè Eh Volevo vedere Cosa stavo facendo No in realtà Seriamente Cosa stavo cercando di fare Eh Dov'è la mia Eh già Non ho energia LOL LOL Io stavo aspettando Che questo qui finisse Come si fa Tipo Andiamo sulla Ex nihilo No astris Upgrade Speed upgrade Si fa con 4 invar E un pirotium E un Electrum Electrum si fa Boh Con Silver E gold Io ho Silver e gold Ma la vera domanda è Io ho il pirotium Io ho l'electrum Serio Io ho l'electrum Fantastico E il pirotium Come Eh sì Vabbè Ma ce l'avevo lì Porca vacca Pirotium Si fa con Blaze powder Sulfur Blaze powder Eh Sulfur Poibo Eh Breeze powder Sulfur Coal E redstone Dovrei aver tutto Dovrei Gold Beh Sai che mi serviva La redstone Il carbone Ce l'avevo La redstone Ce l'ho Grandissimo E dovevo avere Anche il carbone Me lo ricordo Di aver avuto Anche il carbone Ce l'avevo Cioè Davvero Cioè nel senso Non sto scherzando Dov'è Non c'è il carbone Fantastico Devo farlo Erano tipo Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Eh no Per più Sette Otto Ok Ok Ora mi dovrebbe dare Il pirotium Zan zan Ok E poi andiamo Su una crafting table Libra Cioè questa qui E andiamo a vedere Come si fa quel coso Eh Tac Allora si fa così Poi Eh no Questo qui Come L'invar L'invar ce la dovrei avere Fa vedere Invar 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 Me lo ricordo L'invar Dai Ok Ce l'avevo nel mondo Quello in singolo Spero di no Lo avevo nel mondo In singolo Come si crafta L'invar L'invar Si crafta Con l'invar blend Che si fa con Due Ingotti Di ferro E un ferro 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 Ok Guardiamo un pochettino Qui non c'è niente Qui non c'è niente Qui non c'è Qui non c'è Qui non c'è Non ho ferro Sono felicissimo Guarda No No Vabbè Già che ci sono Hendrix Chiude Ciao a tutti Vi ricordo Come sempre Ti lasciano Mi piace Commentare Condividere Iscrivetevi Se non volete Se non volete Ovviamente Se non volete Iscrivetevi Se volete Iscrivetevi Due volte Hendrix Scrivetevi